Quali sono le tue sensazioni e la condizione in vista di sabato? Ho provato le strade del Lombardia e quest'anno è veramente duro. Sarà una corsa molto selettiva, la mia condizione... Vedremo quanta benzina è rimasta nel serbatoio, alla fine daremo tutto quello che c'è, è l'ultima gara della stagione e quindi proveremo. Ci potrà essere magari una gerarchia delineata in partenza o vedrete che stava facendo essere comunque anche l'ultima, la condizione da valutare? Guarda, è una gara molto semplice a livello tattico perché ci sarà una selezione naturale che verrà da dietro, quindi le gerarchie si stabiliranno strada facendo perché la gara appunto è così dura che non ci sono molte tattiche da fare. Il 2016 diverso per te con il Tour, che bilancio tracci? Sicuramente è stata una stagione positiva per me, mi sono specializzato, quest'anno mi sono un attimino adattato a fare il gregario, ma in occasioni importanti sono riuscito a dimostrare le mie capacità e quindi alla fine per me è anche una stagione positiva, anche la partecipazione alle Olimpiadi è stato un bel premio a tutti i sacrifici fatti fino adesso e niente, vedremo nel prossimo anno magari di centrare anche un obiettivo personale che fa sempre piacere. Magari numero 100, giro? Ma vedremo, vedremo, ancora è un po' presto per fare i programmi, ma sicuramente qualcosa c'è nell'aria.